E' iniziato come qualsiasi altro viaggio di ritorno a casa. Immediatamente sembrava proprio il solito trantran. Ehi, 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 è un video a giocare! E' un video, mamma! Senti là! Ups, scusa! Quanto manca? Non preoccuparti, saremo a casa in un lampo! Oh no! Oh! Oh, ora basta! E' arrivato un bastimento carico di qualcosa che inizia con la B! Bah, barra e coda! Sì, quasi! Basta così! Prendo la panoramica! Ci siamo! Le relazioni di papà! Tesoro, conosci la strada, vero? Ma allora le cose iniziarono a essere un po' strane. Probabilmente stanno facendo dei lavori alla strada! Ehi, mamma! Oh, da giù! E quello era solo l'inizio. Oh, no, 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 non farlo! Ehi, non vedo più niente! Stai bene, caro? Ah, ecco la nostra casetta! Casa, dolce casa! Cos'è questo silenzio? Oh, non pensavo che i vicini fossero via. Sani e sani! Grazie, amore! Allora, voi scaricate i bagagli o vado a mettere sull'acqua? Ok, campione, andiamo! Papà, cos'è questo rumore? Ehi, ragazzi, è tutto ok, è tutto ok! Mamma, mamma! Dov'è, mammina? Non possiamo cambiare il passato. Ma possiamo chiedere un futuro migliore. Proteggiamo gli oceani. Grazie. 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 Grazie.